Sono Giuseppe Santoro di Amici Italia, sezione Young. Oggi siamo felici di poter partecipare all'iniziativa proposta da Fondazione Mondo Digitale. Il progetto in questione è FattoreJ. La nostra presenza qui è finalizzata ad aiutare i ragazzi a sviluppare una coscienza emotiva, aiutarli anche a sensibilizzarsi e a pensare di più al prossimo. Siamo inoltre felici di partecipare e aiutare i ragazzi proprio perché loro sono il nostro futuro, sono il motore che ci porterà al futuro.